È d'accordo con l'eventuale invio di soldati Nato in Ucraina? Ma neanche per sogno. Io penso che l'Ucraina ormai debba cavarsela da sola anche perché i finanziamenti mi sembra che stiano esaurendo. Io credo comunque che sia meglio, come dice il Papa, alzare bandiera bianca che morire ammazzati. È un consiglio che do agli ucraini. Il consiglio di Vittorio Feltri.